La stugara, ah, 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 ditele che i suoi torti a vendicario vado. Ma sapete perché ridiamo? Allora, perché l'eporello sta insieme a Don Giovanni? Io mi domando come fa quest'uomo a conquistare così tante donne? Come è possibile che una statua di pietra si muova e venga a bussare alla porta per accettare un invito a cena? Ma soprattutto, come è possibile che l'uomo che se la trova di fronte a Don Giovanni non scappi a gambe levate di fronte a una visione così soprannaturale e terrificante? Zellina! Zellina! Non l'ha andata a Zellina, oh! Oh, avevi visto la Zellina? Eh? E che la fa con quell'uomo? Io sono voluto i due anni per dargli un bacino, che non la dava in quella bocca con quell'uomo? A chi mi dice mai, quel barbaro dov'è? Che per mio scarno amai, che mi manca di fe, che mi manca di fe... Lui lotta! Ma i demoni sono più forti, lo prendono, lo portano via! Don Giovanni ti fa sentire importante e lo fa attraverso... Io due cose insieme e non riesco a farlo, la via le fasiate! Il padron mio è così e van bene tutte ragazzi, voi sapete quel che fai! Sentite un po' come il Mozart ci fa sentire tutti sti mugoli con la musica! Ci mette amore, ci mette morte, ci mette duelli, ci mette scambi di persone, ci mette maschere, ci mette venenate e soprattutto ci mette tanto, tanto sesso! Grazie per la visione! Gi basta dato, gi basta dato...